Non è semplice esporsi, parlare ad un microfono mentre si sta affrontando un percorso non facile, ma con tanto coraggio e forza d'animo. Licia non si tira indietro. È molto molto dura, però con l'aiuto della famiglia, della dottoressa che mi segue, vado avanti, cerco di andare avanti. Questi momenti che cosa rappresentano per lei? Bello, una cosa molto bella, molto felice, rilassante. Le nostre domande, le sue parole, strappano da alcune più di una lacrima, perché sono lo specchio di un cammino difficile condiviso da donne, amiche, unite nella lotta contro il tumore e i polmoni, protagoniste per un giorno di un laboratorio di make-up alle prese con fard, fondotinta e matite per imparare sotto la guida di Francesca a truccarsi, a celare i segni dei trattamenti chemioterapici, spesso dermatossici. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari con l'associazione Valce Onlus ha voluto promuovere l'evento organizzato in tutta Italia. Sono sempre di più le donne, sempre di più è anche l'abitudine al fumo, per cui noi ci occupiamo sia di sostenere le donne e le loro famiglie, informandoli, e poi anche informazioni che riguardano la prevenzione.